Cala il silenzio sul CUPA, il consorzio universitario di Agrigento. Dopo la fuoriuscita dell'ex provincia, il sindaco Lillo Firetto, che rappresenta il socio di maggioranza del consorzio universitario, sta muovendo i primi passi per cercare di giungere alla nomina di un management di qualità a cui affidare la gestione del polo. Assieme alla Camera di Commercio, che ha dato la propria disponibilità economica, Firetto sta cercando di individuare personalità di spicco da nominare nel CDA. Le quotazioni di Gaetano Armao, ex assessore regionale, persona Superpartes, stanno aumentando di giorno in giorno. Da più parti arrivano segnali a favore dell'avvocato, a scapito di Enzo Sardo, che era stato dato in un primo momento come probabile presidente. Sardo potrebbe far parte del CDA, assieme a Giovanni Di Maida, che così sarebbe riconfermato. Firetto attende le mosse della regione, che dovrà trasferire al CUPA la somma di 800.000 euro, quale contributo straordinario per il polo. Tra Comune e Camera di Commercio, il Consorzio ha a disposizione soltanto 200.000 euro, 150.000 il Comune e 50.000 l'ente camerale. Ma per mantenere i livelli formativi sono necessari altri soldi. In tutto 774.000 euro. E Firetto ricerca anche tra i privati. Intanto sull'argomento interviene Pietro Di Noto, uno studente che si è interessato delle vicende del CUPA. È trascorso più di un anno da quando il governo siciliano ha assunto l'impegno di salvaguardare e rilanciare il polo universitario di Agrigento. Ad oggi però non è stato possibile riscontrare delle soluzioni concrete, scrive Di Noto. E intanto a fare le spese dei continui ritardi e degli esasperanti rinvii sono stati ben tre corsi di studi, le cui offerte formative non sono state rinnovate per il prossimo anno accademico. Numerose sono state le iniziative portate avanti da noi studenti al fine di sensibilizzare, purtroppo vanamente, le istituzioni sul tema della salvaguardia e della tutela del diritto all'istruzione. E se questa situazione è fatta di continui rinvii, ancora deve andare avanti, non ci resterà che consegnare i nostri certificati elettorali. Per questo ci aspettiamo nei prossimi giorni risposte concrete da parte del governo siciliano, sperando che le prossime settimane siano finalmente quelle decisive per le sorti del CUPA. È il momento che la Regione e gli altri comuni della provincia facciano la loro parte.